Livorno è una città che mette in discussione una delle opere di psicologia più importanti, la psicologia delle masse di Le Bon, un'opera dell'Ottocento in cui Le Bon intuisce qualcosa di fondamentale, cioè nessuno di noi sarebbe così libero di muoversi, di ballare come balla quando è in una discoteca o in un'altra situazione, così libero di fare determinati urli, determinati zoga come quando è un corteo, perché essere in una massa ci protegge, è come se l'io diventasse noi e quindi l'io non si espone più, per questo io posso fare delle cose in consulte, tanto è la massa che mi protegge perché faccio quello che fanno tutti, quindi c'è anche l'elemento ovviamente negativo, vuol dire che un cervello funziona meglio di tanti cervelli messi insieme, ovvero che una massa messa insieme è una massa facilmente plagiabile, questo poi abbiamo visto anche nel Novecento San Portato. Ecco, questo vale in tanti angoli del mondo, a Livorno si può dire in modo paradossale che non vale, perché anche allo stadio vediamo che Livornese cerca di far parte del coro del noi, ma proprio cerca anche di evidenziarsi, di dire quella battuta, quella frase, quell'urlo, quando c'è un po' di silenzio, quando tutti si accorgono di lui, in maniera tale da differenziarsi, da evidenziarsi, da diventare qualcosa di diverso, cioè quindi da noi esiste proprio l'idea di chi ha fatto 30 spinge qualcuno a fare 31, poi qualcuno a fare 32, qualcuno a fare 33, qualcuno a fare 34, questo 31, 32, 33, 34 è chi fa la cazzata più grossa, chi la spara meglio, chi esagera, chi esubera, perché così si narra di lui, diventa una forma di narrazione iperbolica che caratterizza Livorno e possiamo dire, senza modestia ed esagerando, che Livorno sconfigge Le Bonne, da noi la psicologia delle masse non vale.